Start, 2, 1, Mystery Mission and Liftoff! L'unico gioco di quel genere, in pratica i puzzle, l'esplorazione del mondo, i suolvere puzzle appunto molto cervellotici, l'unico gioco che io ho finito di questo genere e che tra l'altro mi è piaciuto e mi aspettavo forse anche più difficile. Di cosa parliamo? Beh, l'inizio della trama è molto misterioso, io vi ho tagliato la fase iniziale dove vediamo un'entità, una donna, una ragazza, in forma metà eterea, metà umana, che poi è svanita e ci ha detto tu sei, hai fatto il tuo primo respiro, io l'ultimo, sei un guardiano, sei un custode, devi custodire i tre mondi, insomma e vale varie. Noi siamo usciti presumibilmente da qui. Abbiamo preso un oggetto che è questo, che si chiama l'annesso. L'annesso è in grado, lo scopriremo subito leggendo questo libro, di poter controllare magari delle prese elettriche, applicare una forza, una coppia maggiore o un qualcosa, possiamo agire anche a distanza. Ed è un gioco, tra l'altro questo, che si può giocare sia in VR che in 2D, insomma è normale. Il gioco ha il DLSS o l'equivalente di AMD e qua ci fa usare. Io ho aspettato prima di aprire questa porta perché il menu non è nulla di che, assolutamente nulla di che, perché mi sarei aspettato qualcosa di un pochino più profondo. Però il gioco non costa poco, vi dico subito, non mi sento di condannare il prezzo perché generalmente i giochi di questo tipo sono per appassionati e gli appassionati generalmente pagano. Rilascia, attiva l'annesso, vedete che, ok, sono a dettaglio ultra quindi con la Q e la E, con la E apriamo, perfetto, vedete che possiamo chiudere e aprire. Carina sta cosa, si presta per lo più per essere giocato in VR una tecnologia di questo tipo però andiamo avanti e vediamo, non risolveremo, sono molto cervellotici i puzzle in questo caso quindi è difficile che ne riusciremo a risolvere uno ma mai dire mai. Allora, non c'è una grande interazione col mondo, il gioco è in italiano ovviamente, possiamo interagire anche con questo, si possiamo chiuderlo. Metti che chiudendo otteniamo qualcosa, vediamo, non ci sono altre cose da prendere, è tutto sullo stile falsa riga steampunk. Tengo premuto, mollo, lo attiva, apro la porta, andiamo avanti. E siamo in questa sorta di bunker a cui però presumibilmente non c'è un'uscita ma sicuramente risponderà alle nostre domande con l'indicatore lì. Possiamo sollevarci. Ah, è un ascensore, eravamo proprio a fila del terreno. I mondi, i regni, chiamati, sono tre che potremmo esplorare. Io non so perché questi sviluppatori della Saiyan abbiano questa fissa per i regni, però vabbè. E ovviamente è meraviglioso, no? Maestrosità e la pace del ghiaccio e della pietra, adesso è stupendo giocarlo in via, non si può cadere giù ovviamente. Io non ho emersi dalla soglia come te, mi svegliai al cigno. Quale fu il mio primo viaggio in questo regno? Oh, me lo ricordo come se fosse ieri. Bellissimo. Va bene, andiamo avanti. E dovremmo capire, perché il gioco ci dice, ma perché ci sono questi regni? Come sono connessi tra loro? Sembra che tutto sia stato costruito per un motivo. Lo scopriremo nel corso dell'avventura. Questa premessa, per me, è abbastanza intrigante. Il tuo dito forse sono gli allarmi. O il tuo battito cardia. Questi effetti cesseranno col tempo, quando il corpo si abituirà al calore. Il gioco non ha delle grandissime recensioni su Steam. Per bug, non per la qualità del gioco, ma per i bug, per la presentezza grafica. Allora, siamo saliti qui, ma siamo passati di qua, ma di qua non c'è niente. Là sopra si va. Però io continuo veramente a rimanere... Si può correre, non si può saltare in giochi di questo tipo. Continuiamo ad andare avanti. Sì, qualche scattino c'è effettivamente, è pesantino quando carica. Però nulla che non si è risolva. Lo sto giocando proprio il giorno del rilascio, questo giorno dopo, quindi non è un problema. Per me. C'è un giocolento questo, non è che... Ok, qua, osserviamo una sorta di teleferica. Ho avuto un mentore meraviglioso, mi ha insegnato tutti questi regni. Sì, questo l'arrivo, passeremo di là probabilmente. Ma poi... Eh, sono curioso di vedere come va avanti la storia, ma voglio andare avanti anche a vedere cosa c'è qua. No, qua probabilmente sale il ponte. Blocato il ponte. Perché ho bloccato il ponte? Devo andare su. Forse? Sì. Sì, non mi usciva il simbolino, o perlomeno non l'ho visto, quindi... Ok, vediamo. Indietro o avanti? Ok. Ho spostato la gru. Alcune prese disponibili in modalità multiple, uso la tela del mouse per cambiare modalità. Ah, ok. Vedete, abbassa, solleva. Ok, solleva. Abbassa. Indietro o avanti? Abbassa e solleva. Trasmissione e sollevamento. Devo capire cosa devo fare con questo. Potrei tenerlo... Potrei alzarlo un po' di più. Basta. Andiamo giù e vediamo se... Se c'è qualcosa sotto. Cioè, se il ponte può essere tirato su adesso. Sì. Il problema... Il problema... Vedete che non me lo fa interagire perché sono sopra... Ok, qua manca il ponte. Potrei... Mi è venuta un'idea, siccome potrei risolverla. Però... Più di una in realtà... Allora, vediamo. Io posso spostarlo di qua, di là. Avanti o indietro. Io vado in giù. Cazzarola. Si è chiuso. Devo cercare di capire come fare. È diverso da misto, ovviamente. Perché si agisce tutto con questo... Con questo sistema qui. Vediamo. Ok. Io mollo tutto. Torno su. E sollevo. In modo da non farlo cadere. No. No. Evidentemente no. Devo studiarci un attimo. Cercare di capire... Perché c'è questo indicatore... Che mi dà queste... Vediamo un po'. Abbassa, alza. Vediamo un po'. Perché cambiano anche... Ma è maestoso come cosa. Però non ho modo di... È molto bello però... Il modo in cui si muove questo affare. Però là c'è un altro... Eh sì. Però non me lo fa fare. Probabilmente... Ok. Probabilmente è più facile di quella che... Di quella che pensavo. Perché forse riusciamo a controllarlo da lontano. Giustamente. Sono... Sono un bambuio. Probabilmente... Voi l'avrete già sicuramente notato. Sollevo il ponte. Forse... E di qua forse... No. Non ho gestione neanche lì. Però forse dall'alto riesco a controllarlo. Vediamo. No. Però forse... Allora sappiamo che... Sotto si è chiuso. Vediamo se riesco ad abbassarlo. E camminarci sopra ma... No. Sicuramente non riesco. Niente. Devo studiarci un attimo. Vediamo. Ok. Ci ho passato diverso tempo. Per poi accorgermi subito dopo. Che lì sotto. C'è un passaggio. E ci sono dei cubi sotto lì. Quindi io vi dico la verità. Le ho provate davvero tutte. Ma poi... Ho fatto arrivare anche la gru fino là. E' davvero interessante perché non impone a sto giro. Quella classica meccanica da mist. Dove... O magari poi in futuro ci sarà. Però... Non impone quella meccanica da mist. Dove noi dobbiamo per forza osservare tutto. E cercare di capire. Se ci sono cose che... Che magari non... Non abbiamo visto. Che possiamo... Con cui possiamo interagire. Vale varie. Allora. Praticamente. Avanti. Ah l'abbiamo agganciato. Già agganciato. Perfetto. E secondo me... Possiamo andare... Avanti. Un pelo. Scendiamo. Veniamo più avanti. Ci sta parlando la tizia. Ma non ci sono i sottotitoli. Comunque credito di aver sbloccato questa parte qui. E' davvero interessante. Molto interessante. Questa strada l'ho vista dall'alto ma non pensavo... Ok. Vediamo se ci si può andare. Sì. Fantastico. Si va di qua. Ah. Attiviamo l'altra parte del ponte. Era più facile. Ok. Io erroneamente pensavo qualcosa di astruso che andasse a bloccare di qui e di là. In realtà non è così. Quindi in futuro. Adesso che noi sbloccheremo il ponte. Libereremo questa gru per l'utilizzo poi successivo. Futuro per una svolta futura della meccanica di precisione. Quindi. Andiamo avanti. Solleviamo anche questo ponte. E quindi abbiamo sbloccato il passaggio. Fantastico. E quindi si può andare avanti. Meraviglia. Non sono straordinarie. Le raccate di firmamento. Nelle raccate sarà possibile potenziare il nostro annesso. Chiudi o apri? Apro. Puoi partire quando vuoi e puoi tornare qui. Ok. Perché qua c'è il ponte. Tra l'altro bloccato anche dall'altra parte. Ma con cui forse possiamo interagire da qui. Sì. Ok. Abbiamo sbloccato questo. Che bello là in fondo. Ah quella. Diciamo quelle. Ambientazioni un po' evocative. Un po' alla. Elden Ring. Devo dire. Comunque apriamo e vediamo cosa c'è all'interno. Così vediamo le basi di questo gioco. Non so dirvi la durata però di questo titolo. Però. Qua dentro sembra esserci qualcosa di interessante. Avanti. Destinazione o alimenta. Il cigno. Destinazione. Alimenta. Alimenta. Ora potrai assistere alla meraviglia degli altri regni. Ma prima passerai dal cigno. Ah. Ok. Questa è una sorta di passaporta. E vediamo anche gli altri regni. Si fa molto interessante. Questo è il cigno. Ecco. Tutto tradotto anche a livello di grafica. Dove ci siamo riuniti. Abbiamo parlato, cantato, imparato, mangiato, riso. C'è un libro. Condiviso. I miei ricordi di questo luogo. Così vivido. Così meraviglioso. Questo qua è un regno. Poi là ce n'è un altro. E qua un altro ancora. Vedete il blu e il ghiaccio credo qua in un ambiente naturale. Ecco in mezzo c'è questo macchinaio che non so cosa serva. Qui abbiamo dei luoghi da esplorare, dei libri da leggere. Non leggo nulla perché me lo voglio guardare con estrema calma senza spogliarmi nulla. Perché questo secondo me è da giocare. Qua c'è firmament. C'è qualcosa anche qui. Questa è la soglia. sonno dei custodi. Dove passiamo dalla veglia al sonno? Dal sonno alla veglia. nomi. Gli ho fatti addormentare. Qui è stato molto difficile. Ah vuol dire che quando un custode smette di vivere, insomma finisce il suo incarico, viene messo qui a dormire? Non lo so, perché lei sembra molto dispiaciuta di quello che ha fatto qui. Ma continuiamo. Qua è tutto chiuso. Tant è qui. C'è un libro anche qua. Vabbè io non leggo adesso perché me lo ricomincio poi. Apri. Vediamo cosa c'è qua dentro. Depositi di St. Andrew. Alimenta, destinazione. Destinazione. Alimenta. Usciranno i raggi adesso di caricamento. Infatti, eccoli qua. E vediamo questo altro regno. Gli amanti di Mister saranno già sul tasto acquista su Steam. Vediamo, sono curioso. Era verde, quindi mi aspetto un mondo naturale. Vediamo. Siamo arrivati, stanno sparendo le luci, no? Ci mettono una vita ad arrivare però. È lungo il viaggio. Ok, forse siamo arrivati. Sì. Eh sì. Bellissimo. Che è questo. San Tenderio, grande entrance. Mi fanno impazzire tutti questi meccanismi che si chiudono. Comunque è figata anche questo. Ecco, io direi che posso anche fermarmi qua. Ho solo un grande dubbio. Nel senso che... Potrebbe essere confortante per alcuni e meno per altri il fatto di sapere o meno se questo gioco sia tutto così. Tutto con questo strumento. Voglio dire se si agisce tramite enigmi come questo o meno. Perché potrebbe sembrare anche più semplice fatto così il gioco. Ma in realtà secondo me non lo è perché... Non lo è perché impone comunque di magari metterci più tempo per scoprire tutte le varie possibilità. Ma soprattutto non è immediato. Ah ok, questo è un ascensore. Infatti ok, non abbiamo i classici enigmi dove spostiamo tasselli, muoviamo cose. Ma al tempo stesso può diventare anche più complicato perché dobbiamo interagire con molte più funzioni di uno stesso carrello, ad esempio, di uno stesso macchinaio. Come in questo caso il puzzle impone che io sia bloccato qui. E credo forse di non poter nemmeno interagire a quella distanza. E soprattutto qui io non ho cose con cui interagire, quindi sono bloccato. E per arrivare là in fondo dovrei trovare un modo per spostare quel carrello che mi impedisce di muovermi là. Vediamo se abbiamo modo di muoverci in verticale, sì. Ok, si fa decisamente più complicato adesso. Perché è anche un ascensore. Quindi entriamo qui e vediamo cos'è. Un palazzo costruito dentro un albero? Ah qua sono tutte comunicanti. Ok. Quindi praticamente qua comunichiamo con l'altra. Sono tutte state aperte queste celle, chissà che cosa c'era qui dentro. E qua posso aprirlo. Abbasso il ponte e dovrei riuscire nei luoghi, sì, degli ascensori. Quindi sono tornato qui. E ho preso un altro ascensore. Quindi tecnicamente ora potrei scendere, disaccoppia, accoppia. E quindi ho fatto diventare più grande ancora accoppia. Ok. E quindi... E quindi... Possiamo muoverci... Avanti. Non più avanti di così però. Poi possiamo scendere? No perché c'è sotto l'altro carellino. E' complesso sto mondo. E' decisamente complesso. Un bel puzzle ambientale. Ragazzi, questo era firmamenta. Fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti. E noi ci sentiamo in un prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi. E ciao ciao. Ciao ciao.